Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Parleremo ben di che cosa? Parleremo del 39esimo episodio di Astronomy Universe. Che cosa andremo a fare qui? Beh, nell'episodio precedente abbiamo parlato delle sette lune di Nettuno, giusto? Ma non avevo finito qui, allora perché ho fatto la prima e ora la seconda? Perché non ho parlato se c'è vita aliena nelle lune, in una di queste sette lune di Nettuno. E lo andremo a scoprire ad oggi. Vabbè, poi anche se c'è qualcos'altro, vediamo. Comunque, buona visione, via. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato delle sette lune di Nettuno, giusto? Bene. Qui che cosa andremo a fare? Beh, andremo a parlare se c'è vita aliena su queste sette lune. Innanzitutto andremo a vedere se c'è vita su Tritone, la luna più grande sui satelliti di Nettuno. Beh, la domanda che ci poniamo più importante di tutti è questa. C'è vita extraterrestre su Tritone? Cioè la luna di Nettuno? Beh, lo andiamo a vedere. Vediamo cosa dice le caratteristiche. Tritone, dato la sua attività geologica, è possibile il riscaldamento mareale avuto in passato dopo la sua cattura, quando aveva un'orbita estremamente eccentrica. Si ipotizza che il Tritone possa ospitare forme di vita acquatiche in un oceano di acqua liquida, mista ad ammoniaca sotto la superficie simile. L'ipotesi è stata fatta per Europa. L'ipotetica vita extraterrestre sarebbe come la vita sulla Terra. A causa delle temperature estreme, le condizioni ambientate di azoto e metano, per il fatto che la luna giace all'interno della pericolosa magnetosfera di Nettuno e dannosa per le forme di vita biologiche. Quindi, avete capito? Forme di vita acquatiche. Quindi i primi alieni saranno delle sirene. Volevate vedere le sirene? Beh, le guardiamo da lontano. Ma sono su un altro pianeta, altri esseri umani che vivono in acqua, non sulla Terra. Visto molte cose non è che sono esattamente, come posso dire, come si è visto nei film. Infatti per questo si dice fantascienza. Perché c'è qualcosa di alcuni dati che non sono reali. E te li sei inventati tu. Non è niente di reali. Questo significa. Invece, se lo fai diventare come è successo in quel tipo di film, allora non è più fantascienza. Scienza diventa. Purtroppo ancora questo argomento resta sulla fantascienza, perché mancano ulteriori prove. Comunque, passiamo avanti. Le altre lune parliamo. Adesso. Ok, ci sono forme di vita sulla rissa? La risposta è no. Purtroppo. Passiamo al prossimo. Galatea. Nemmeno. Prossimo. Despina. Nemmeno qui. Mi sa che l'unica, l'unica possibile vita aliena è Tritone. Poi c'è Talasa e Naidi. E infine Hippocamp. Andiamo a vedere. Vediamo se c'è. Bene. Adesso parliamo di che cosa? Purtroppo, anche se si è scoperta questa luna, che non è stata ancora identificata perché è troppo piccola, chiamata Hippocamp, purtroppo non si sa ulteriori dettagli. Però il suo nome è stato dato dalla mitologia di un animale. Una creatura più che altro. E adesso andremo a vedere quale si tratta. Purtroppo niente vita aliena qui. In nessun modo. Perché anche che il satellite è troppo piccolo per ospitarlo. A meno che non sia microbica. Infatti, più che forme di vita biologiche c'è altri esseri simili a noi umani, praticamente. Prima stiamo cercando vita microbica. E poi si passa da là. Cercare civiltà intelligenti. Di più stiamo cercando forme di vita microbiche, come virus batteri. Capito? Comunque, passiamo. Innanzitutto, nessuno sa che cos'è l'Ippocampo. Nemmeno io lo sapevo e lo stiamo per scoprire assieme. Ippocampo, creatura mitologica. Un Ippocampo è una creatura leggendale della mitologia greca. Gli Ippocampi figurano il corteo di Poseidone, insieme a tritoni, draghi acquatici e giganteschi mostri marini. Poi, sono cavalli fino alla pancia e il loro corpo si conclude con una coda di pesce. Possono avere zoccoli o zambe palmate e al posto della criniera possono esserci una cresta di membrana o delle alghe. Beh, tutto qui. Purtroppo si sa poco su questa creatura. E questa luna è stato assegnato questo nome. Ippocamp. Capito? Comunque, che posso dirvi? Adesso possiamo concludere realmente. Qui anche la seconda parte che abbiamo parlato delle sette lune di Nettuno, parte 2. Beh, ragazzi, spero tanto che questo video vende di Astronomy Universe il trentanovesimo episodio. Parliamo delle sette lune di Nettuno, parte 2. C'è vita aliena sulle lune di Nettuno. Vi si è piaciuto? Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando. Mettete un bel like. E noi ci vedremo domani in un prossimo video, ok? Noi ci vedremo alla prossima. Ciao!